Assessore, oggi è nel territorio di Sasso Corvara Auditore, ci troviamo alla diga di Mercatale, uno dei luoghi più iconici di questo comune. Parliamo di infrastrutture. Siamo qua, non possiamo non accennare all'ospedale e alla rete sanitaria marchigiana. Sì, la Regione Marche sta affrontando la discussione attorno alla rivisitazione complessiva del piano socio-sanitario, approvato poco più di un anno fa dalla Regione Marche. Un piano sanitario che ha distrutto la sanità sul territorio di questa Regione ad iniziare da tutti quegli ospedali filtro che garantivano al sistema di reggere l'impatto anche, avrebbero garantito anche di reggere l'impatto di questa pandemia. Così non è stato per scelte sbagliate del passato. Oggi sentiamo tanti ex amministratori discutere e direttare di sanità, quegli stessi ex amministratori che hanno chiuso i nostri ospedali e per i quali la nuova amministrazione regionale sta ridiscutendo perché la loro utilità è palese a tutti. Allora che cosa abbiamo intenzione di fare? Innanzitutto abbiamo già detto no agli ospedali unici e non ai progetti di finanza che avrebbero dilapidato i soldi delle casse regionali per fare che cosa? Un nuovo piano, una nuova organizzazione sanitaria che preveda degli ospedali filtro verso degli ospedali maggiori che logicamente sono situati dove c'è maggiore concentrazione demografica, quindi lungo la costa. Questo significa poi anche potenziamento di quegli ospedali come quello della nostra provincia di Pesaro che ha necessità di interventi per fargli recuperare quelle professionalità che ha perso nel tempo. Qui sono presenti anche delle scuole, un polo scolastico storico. Ventilazione e sanificazioni è uno di quegli stanzamenti che la regione ha fatto per prima. Due milioni di euro arriveranno anche qua? Primi in Italia, noi marchigiani abbiamo redatto un bando per intervenire a sistema in tutte le scuole regionali per garantire la reazione delle aule scolastiche per i nostri ragazzi. Questo tema è finito addirittura sul tavolo del presidente incaricato Draghi per la formazione del nuovo governo. Le Marche diventano un modello e in questo modello diamo particolare attenzione ai comuni più piccoli perché abbiamo riservato il 50% delle risorse disponibili ai comuni con meno di 5.000 abitanti. Assessore, quindi, oltre a queste cose, per sassocorvare l'auditore del territorio circostante, quali altre novità ci sono? Soprattutto infrastrutture. Stiamo lavorando in una visione complessiva delle infrastrutture marchigiane che vedono anche delle priorità per questa provincia. Qui vicino abbiamo la Fano Grosseto, ma non possiamo parlare soltanto della realizzazione della seconda canna che la regione Marche chiede con forza al futuro commissario incaricato dal governo per la realizzazione dell'opera, ma chiediamo anche tutta una serie di infrastrutture connesse alla Fano Grosseto perché tutto il territorio cominci a respirare e si possa proporre come apripista per lo sviluppo economico che dovrà seguire la grave crisi determinata dalla pandemia che stiamo vivendo in questi mesi e in queste settimane.